Musica Allora, Luisa Fiorillo, sei presidente del consiglio a San Mango d'Aquino, sei una donna e ovviamente sei qui perché questa sera per la sesta edizione del primo Moricello, che è ideato da Antonio Chefallo, saranno consegnati dei premi anche a delle donne che si sono distinte per il loro impegno artistico, civico. Quanto è importante a questo punto per una donna fare politica e inserirsi nella politica? Guarda, per me è la prima esperienza in politica sia per quanto riguarda la politica appunto locale. Sono stata eletta il 10 giugno scorso con mia grande sorpresa perché comunque era la prima volta che mi accendeva a questo mondo politico. Però l'ho fatto perché comunque mi piaceva la squadra, mi piaceva il gruppo e sono convinta appunto di poter dare comunque il mio contributo per tutta la comunità che mi ha sostenuto. Sono state 102 persone che hanno veramente scelto di votarmi e di fidarsi comunque della mia, tra virgolette, inesperienza perché comunque è la prima volta che mi accingo a questo mondo politico. Spero di non deluderli e spero di poter contribuire veramente con la forza delle donne che mancava da tempo nel nostro comune. Siamo state elette in tre, io adesso sono stata eletta anche Presidente del Consiglio con grandissima soddisfazione, grandissimo onore e spero di poter appunto omaggiare questa carica nel migliore modo possibile. Con la tua presenza comunque qui oggi già lo stai facendo perché non è solo una questione di quota rosa ma è più una questione di attivismo. L'hai detto è il tuo primo incarico diciamo pubblico però questo non toglie che tu forse essendo il primo metterai tutto l'impegno necessario a dimostrare ai tuoi elettori che hanno scelto bene. Posso chiederti semplicemente come vedi diciamo San Mango rispetto magari alla precedente legislatura nel senso vedi più possibilità di rinascita essendoci molti diciamo valori culturali seminati tra ieri e oggi, c'è stata la prima fiore del libro, oggi il premio Muricello. Pensi che si possa partire da qui? Assolutamente sì, come dicevo già prima siamo una squadra forte, siamo comunque tutti ragazzi giovani, alcuni come me anche la prima esperienza però stiamo cercando veramente di lavorare tanto, di dare il massimo e già con questa iniziativa che è appunto iniziata ieri con il festival del libro siamo partiti fortissimi, c'erano tantissimi autori ieri a San Mango e stasera speriamo di concludere queste due giornate in maniera altrettanto positiva perché comunque vedo che sta arrivando anche un bel po' di gente tra i ragazzi che verranno premiati, che sono i nostri giovani, quindi il futuro del nostro paese quindi spero di poter continuare insieme ai miei colleghi su questa scia. Grazie.